La Sicilia da sempre terra al centro del Mediterraneo, cuore pulsante dell'Occidente. Perché non decolla? Cosa non funziona? Una domanda che merita di essere affrontata seriamente e a distanza di sicurezza dai luoghi comuni e dai pregiudizi con cui solitamente viene declinata. Anzitutto la prima risposta che solitamente viene delineata alla domanda sollevata è quella che io definirei in questi termini, nei termini di un razzismo culturale quando non direttamente biologico. Si sostiene che i popoli del sud sono per natura meno produttivi e meno inclini a essere attivi rispetto a quelli del nord. Questo teorema, ampiamente falso, venne già magistralmente smascherato da Antonio Gramsci nei quaderni del carcere, il quale Antonio Gramsci, come è noto o come dovrebbe essere noto, fu uno dei primi e più anche ferventi sostenitori della questione meridionale. Gramsci notava nei quaderni del carcere che la questione meridionale italiana, lo diceva da sardo, ma il discorso ovviamente può essere esteso facilmente anche alla Sicilia, la questione meridionale sorge quando un processo falsamente chiamato di unificazione, ma che più propriamente dovrebbe essere qualificato come imperialismo, come logica di inclusione neutralizzante o anche imperialismo più semplicemente, mediante il quale imperialismo il nord, dice Gramsci, piovrizzò il sud, usa testualmente questa espressione. In che senso il nord piovrizzò il sud? Il nord, segnatamente l'area sabauda, aborrita da Gramsci, e in effetti la monarchia sabauda, credo di poter dire senza tema dismentita, fu tra le peggiori dell'intera storia universale per molti versi, basti considerare ciò che fece concretamente in Sardegna, ai tempi del regno di Sardegna e dopo l'unificazione d'Italia, il nord piovrizzò il sud e ne sfruttò tutte le risorse. Ne sfruttò le risorse utilizzandole come volano per il decollo dell'economia del nord, di Torino, Genova e Milano. Ovviamente il sud, privato delle sue risorse, non poteva decollare. Anziché dire la verità, cioè il fatto che il sud era stato privato furtivamente di tutte le sue risorse e non poteva decollare, la risposta di chi domina e quindi scrive la storia fu quella secondo cui il sud era popolato da una popolazione di indolenti, pigri, incapaci di essere attivi come invece erano al nord. Questo è un vero e proprio razzismo inaccettabile che in qualche modo, per citare il Dante del Convivio, attribuisce al piagato le cause delle piaghe che non sono sue in realtà e di cui invece è vittima. Ecco, io credo che questa risposta permetta per un verso di comprendere la questione meridionale siciliana oggi nel senso che la Sicilia, la terra che diede i Natali a Impedocle di Agrigento, a Gorgia, fino ad arrivare a nostri pressoché contemporanei come Pirandello e Verga, è una terra che antropologicamente ha prodotto alcune delle menti più illustri dell'intera storia universale. Sicché evidentemente non è una questione antropologica ma è una questione sociale, sociologica, se vogliamo dire così, ed economica. Consentimi ancora di dire che questo dispositivo gramsciano ci permette di capire per analogia su macroscala anche l'odierna questione europea, che è anch'essa una questione meridionale su ampia scala. Perché si accusa la Grecia di essere un popolo di indolenti, incapaci e addirittura inferiori. Laddove invece la Grecia, che come la Sicilia produsse alcune delle menti più illustri dell'intera storia universale Platone, Aristotile, Epicuro e così via, è stata essa stessa privata di tutto dal nord, l'area teutonica, e poi accusata di non essere in grado di svilupparsi dopo che era stato rimosso ogni elemento materiale per lo sviluppo. Ecco che quindi l'Italia tutta ora, nel tempo dell'Unione Europea, scopre di essere a sud di qualcosa che sta più a nord. E si trasforma l'Italia tutta in un'irrisolta questione meridionale rispetto all'Europa. Come ricorderete, il lessico, la neolingua dell'Unione Europea ha scelto di connotare i popoli dell'area mediterranea con il sintagma pigs, che letteralmente, secondo la lingua imperiale americana significa maiali. Ecco che ritorna questo insopportabile razzismo. Per cui io credo che occorra anzitutto decostruire questo mitologema che vuole i popoli mediterranei e del sud antropologicamente inferiori.